Allora, questa sera abbiamo il banner di Eiko, dove intanto lanciamo il free ticket, vediamo se col free ticket manco poca, come si suol dire, poi abbiamo la pool gratuita sul banner quello di Zidane Wisekais, detto tutto veloce così, e quindi ce l'andiamo a fare, magari mi esce una BT doppione Vabbè, io questi tre ce li ho tutti e tre, quindi alla fine non me ne frega nulla, ci sono le onore Xande che limonano, non credo che sia quello il capitolo giusto Arma di Agile sembra l'infinito edge di League of Legends, eh io ho League of Legends, League of Lezzo, come lo chiamava un vecchio amico Fr di Kais e Weiss, Weiss e Kais Vabbè, io già qua c'ho tutti, quindi alla fine qualsiasi cosa mi esca è pur sempre una ripetizione, quindi non me ne frega nulla Eh, i ticket viola Vediamo i ticket viola cosa ci danno Ah, Diego sinceramente non me ne frega nulla Pensavo che Ever Crisis fosse il gioco definitivo per farmi stare al passo con tutta la lore di Final Fantasy VII Invece è risultato più un gacha, vabbè è normale, ma già lo sapevamo che... ma già lo sapevamo tutti che appunto il gioco era un gacha Anzi, addirittura dalle interviste del pre-rilascio del gioco loro ci avevano detto che comunque sia hanno incentrato molto il gioco dal punto di vista gacha Perché comunque la storia già tecnicamente i fan, ecco qua, tecnicamente i fan la conoscono già Allora, andiamo a vedere l'altro ticket Viola, rosa Oh, ho visto un piccolo laghettino che però... Con l'orba azzurra Mi sembra un po' Allora, il X non è tanto pesante per la trama in sé, ma è pesante per tutti gli eventi che devi fare E anche le cose secondarie che alcune magari dici le fai giusto per il meme O comunque alcune le fai proprio perché le vuoi fare Donna mia Donna quanta roba è uscita qua Peccato che però non sia uscito nulla di interessante Cioè, in Final Fantasy X ci sono tante cose che... Cioè, ti fanno scendere proprio il latto alle ginocchia in alcuni momenti Anche perché poi, vabbè, le cose belle ci sono, eh Tipo il Blitzball, io rimanevo ore a giocare a Blitzball, per esempio Cioè, io ho fatto non so quante ore di gameplay, ma la metà, se non di più Erano tutte di Blitzball, praticamente Niente, sti ticket... Niente, io ultimamente sono sfigato con i gacha Non mi esce niente Ultimamente sono sfigato, non mi esce niente Non mi esce completamente niente È un periodo no È il mio classico periodo no Ci sono questi periodi dove... Dove non riesco a cavare un ragno dal buco Niente, i ticket... questi qua sono andati di merda Abbiamo questi... vediamo questi... buttiamo questi ticket qua per hobby, così giusto per... Vabbè, io Blitzball proprio... ci buttavo le ore, mi facevo i tornei, facevo delle robe incredibili Il mio Titus segnava dal centro campo, praticamente, col tiro normale Cioè, era talmente forte che tipo potevo fare quello che volevo Veramente, veramente topo Poi vabbè... allora, diciamo che i minigiochi nella serie di Final Fantasy sono quasi tutti belli Cioè, volete mettere anche il triple triad di Final Fantasy VIII O comunque... le ciocografie del IX Eh... veramente, veramente incredibili Qua niente Niente, è un periodo buio per me, negaccio questo È un periodo estremamente buio Vai, ma almeno la FR mi poteva uscire di Eigo Cioè, neanche la FR Cioè, ma seriamente? E che cacchio Non lo conosco, sinceramente Quindi non so che gioco sia Però c'è ste pull su Ever Crisis Veramente... ultimamente scammate... allucinanti Niente, va bene Eigo, basta Io non te ne spreco più Ticket Non vuoi uscire? Fa un culo Grazie a tutti